ok allora finita la pausa riprendiamo facendo questo esercizio che ho provato a definire qui che è un po' la cerca di mettere insieme un po' di delle cose che abbiamo visto c'era una domanda in sospeso da Alessia ma devo dire che ne io ne Antonio che ho provato a rispondere non abbiamo capito la domanda quindi o la rifai oppure magari salta fuori durante l'esercizio se no lo approfondiamo dopo allora scriviamo un programma per gestire un elenco di amici il programma deve permetterci di inserire quindi ogni volta che il programma ci chiede di inserire un amico possiamo inserire un singolo amico oppure un gruppo di amici quindi più persone sulla stessa riga separati da virgola quindi se voglio inserire tre nomi anziché inserire uno poi invio poi l'altro nome poi invio poi l'altro nome ancora poi invio li posso inserire tutti sulla stessa riga separati da una virgola il programma nostro deve accettare entrambe le forme ok ovviamente nel primo caso lo aggiungerà nel secondo caso dovrà spezzare o separare i vari nomi e poi dopo aggiungere singolarmente i singoli nomi ogni volta che un amico o un gruppo viene inserito dall'utente dovrà essere aggiunto ad una lista che memorizza tutti gli amici ma solo se tale amico non esiste ancora perché non vogliamo avere degli amici duplicati due volte inseriti due volte altrimenti se invece l'amico esistesse già si stampa un messaggio di errore e si ignora il dato quindi se inserisco qui qua qua e poi inserisco di nuovo qua lui mi dirà no guarda che qua c'era già e non lo può inserire una seconda volta e quindi aggiunge a questa lista ad ogni inserimento il programma dovrà stampare il numero di amici presenti e questo è facile seguiti dall'elenco completo di tutti quindi ogni volta che ne inserisco uno lui me li stampa tutti quindi mi da diciamo così la situazione complessiva in ordine alfabetico con i nomi separati dal carattere punto virgola tanto per cambiare il programma termina quando l'utente inserisce tre asterischi al posto del nome chiaramente allora questo è il comando per dire ho finito ok la parte opzionale la eventualmente la guardiamo dopo o ve la lasciamo divertire nel senso che se uno inserisce anziché un nome di un amico da solo oppure come parte della lista il nome preceduto dal simbolo di asterisco allora indica che quel nome lì so che c'è già ma la voglio cancellare quindi non sono più amico con quello tizio lì ma lasciamolo come parte aggiuntiva allora io andrei per gradi no a risolvere questo esercizio nel primo passaggio io ignorerei questo facciamo la prima versione in cui inserisco gli amici uno per volta poi dopo ci preoccupiamo di di gestire l'inserimento di più amici contemporaneamente sulla stessa linea ok a partire da qualche cosa non si può scrivere tutto completo vediamo se possiamo semplificare qualche cos'altro no questa cosa qua l'alterrei e questo anche è abbastanza semplice allora abbiamo un programma che acquisisce una stringa per volta fino a quando questa stringa non vale asterisco 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 fatemi cancellare la parte sotto che parte riutilizzeremo ma e quindi abbiamo una elenco degli amici che inizialmente è vuoto e poi la struttura principale di questo programma che cosa sarà sarà un grosso ciclo in cui chiedo all'utente inserisci un amico e questo ciclo si ripete finché la stringa inserita dall'utente non è asterisco 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 quindi sarà un nome uguale input inserisci un nome da parentesi asterisco 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 per finire e while nome non è asterisco 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 e przypete inserisci il nome aggiungi il nome alla lista e poi leggi il nome successivo quindi alla fine dovrò avere come un'ultima istruzione ormai questo è uno schema che abbiamo abbastanza comune, di una lettura fino a quando l'utente non inserisce un certo valore. E aggiungi il nome alla lista, nel caso semplice è semplicemente un amici.append di nome. Ho una lista che parte con zero elementi, leggo una stringa che è un nome, lo aggiungo alla lista. Come un elemento in più. E poi posso stampare il numero di amici seguiti dall'elenco completo. Quindi potrò fare una stampa, print, hai tot amici, quanti sono questi amici? La lunghezza di amici, sono due punti e stampo l'elenco. Una prima versione, un primo scheletro. Poi dovremo, ciascuna di queste istruzioni, andare a modificare. Però partiamo sempre da qualche cosa che funzioni. Non scrivete mai troppe righe di codice senza fare run. Quindi abbiamo scritto uno scheletro minimale, meno di così forse non si poteva fare, o quasi. E proviamo a eseguire, vediamo cosa fa. Inserisci un nome abc, hai uno amici che sono abc, poi scrivo il nome ddd, e hai due amici che sono abc, ddd e così via. Ovviamente questo non fa nessun controllo, nel senso che se lo scrivo di nuovo abc, me lo mette di nuovo, e questo lo voglio evitare. Ma questa è una funzionalità che aggiungerò tra un attimo. Per ora ho uno scheletro che funziona. Quindi la parte di lettura, le legge, nella lista li aggiunge, e se metto i trasterischi, il programma finisce. Questo ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo andare a migliorarlo in tanti dettagli. Il dettaglio numero uno, quale potrebbe essere? Beh, il più facile è stampare questa lista in un formato decente. Non con la parentesi quadra, le virgolette, eccetera, eccetera. Allora, occupiamoci prima della parte facile, la stampa. La stampa mi dice, stampare il numero di amici presenti, e questo ce l'ho, hai due amici, hai due amici, tre amici, seguiti dall'elenco completo, l'elenco completo l'abbiamo messo, in ordine alfabetico, questo ci manca, con i nomi separati dal carattere punto e virgola, questo ci manca. Allora, sono due richieste diverse. In ordine alfabetico è facile da fare, nel senso che quando io ho dei nomi, e faccio appendere un nome nuovo, chiaramente avendo aggiunto un nome nuovo, al fondo, questi nomi non saranno più necessariamente in ordine alfabetico. Vabbè, dopo che l'ho aggiunto, semplicemente posso riordinare la lista. Quindi potrò semplicemente dire, dopo che l'ho aggiunto, mantieni l'ordine alfabetico, e quindi amici.sort, subito dopo. Ogni volta che aggiungo un nome, quindi sto per stampare l'elenco di fatto, ordinerò nuovamente gli elementi. Adesso l'assort li ordina da capo come se fossero tutti disordinati. In realtà, avendola messa qua dentro il ciclo, ogni volta che aggiungo un nome, lui riordina in modo da mettere a posto quel singolo nome. Se proviamo a eseguire, vediamo che se io inserisco il nome Z, poi inserisco il nome A, il nome A viene stampato prima del nome Z, perché ogni volta che inserisco un nuovo nome, lui mi riordina, non lo aggiunge semplicemente in fondo, ma lo inserisce nel punto giusto, in funzione dell'ordine alfabetico. Poi non funziona benissimo, perché se io metto un A, mi dimentico la maiuscola, la minuscola, dal punto di vista lessicografico, essendo una lettera minuscola, viene dopo la Z maiuscola, e quindi questo nome qui verrà dopo. Ma questo perché l'utente non ha inserito correttamente le maiuscole e le minuscole. Se vogliamo, poi lo possiamo correggere questo problema. Passo alla volta, come sempre. Quindi abbiamo letto dei nomi, li abbiamo aggiunti in un array e abbiamo mantenuto ordinato questo array, semplicemente riordinandolo ogni volta. Però non abbiamo stampato nel formato giusto. Abbiamo usato semplicemente la stampa della lista e la stampa della lista Python sapete che la fa con le parentesi quadre, con le virgole, con gli apici, eccetera, eccetera. Allora noi possiamo costruirci noi il nostro elenco da stampare. come? Beh, costruendo una stringa che contenga i vari nomi concatenati. Quindi in pratica ciò che dovrei fare, lo scrivo così, ma ovviamente non è questo, amici di zero, poi ci devo mettere un punto e virgola, poi ci devo mettere amici di uno, poi ci devo mettere un punto e virgola, e così via. Eccetera. Quindi posso stampare questa stringa, elenco che sarà una stringa, che mi son costruito mettendo insieme i nomi, separandoli da un punto e virgola, con il carattere di un punto e virgola. Lo so fare questo? Certo che lo so fare. Adesso questo qui chiaramente era solamente un testo che abbiamo scritto per capirci, per costruire questo, visto che non so a priori quanti sono gli amici, dovrò fare un piccolo ciclo. Ok? Un piccolo ciclo in cui faccio, parto da una stringa vuota, e poi per ogni elemento dell'elenco di amici, quindi for, in, range, 0, rendi amici, aggiungerò all'elenco l'amico, amici, amici di i, e più il punto e virgola. Sì, ci arrivo al join, questo è chiaramente il punto d'arrivo, però volevo farlo passo passo. Quindi questo è il modo in cui mi costruisco un pezzettino alla volta, adesso questo non funziona ancora, ci mette un punto e virgola di troppo. Vediamolo. Se io inserisco abc, mi stampa abc, punto e virgola, se ci aggiungo df, mi stampa correttamente tutti in ordine alfabetico, separati dai punti e virgola, però purtroppo c'è un punto e virgola in più alla fine. E quindi dovrò fare in modo che questo punto e virgola non venga aggiunto come ultimo elemento. Daria mi chiede se questo punto più uguale si poteva anche usare extend, no, perché elenco non è una una lista ma è una stringa. E le stringhe non si possono estendere, perché non sono modificabili. Quindi di fatto, se vogliamo, guardate, facciamolo più chiaro. Purtroppo questa è una confusione perché l'operatore più uguale sulle stringhe crea una stringa nuova e sulle liste invece estende la lista esistente. purtroppo è un difetto del linguaggio. Se lo scriviamo così è più chiaro. Prendo l'elenco precedente, ci aggiungo un pezzettino e lo salvo nella stessa variabile quindi dimenticando la lista precedente, la stringa precedente. Allora, questo punto e virgola lo devo evitare di aggiungere, quindi ricordate che prima l'avevamo già fatto con if l'en è diverso da meno uno, cioè se se i è diverso da l'en meno uno, però visto che sono pigro io lo aggiungo e poi lo cancello. Uguale, elenco, vediamo se funziona. Dall'inizio all'u... Allora, così. Due punti meno uno. Cosa se funziona? Fatemi provare. Quindi se io ho una stringa che è abc. Se faccio a di due punti meno uno, bellissimo. Ho cancellato l'ultimo elemento. Ho usato uno slice in modo creativo partendo dalla prima posizione, quindi lascio sottintesa e arrivando all'ultima posizione. Però ricordiamoci che l'ultima posizione è indicata con meno uno per non star lì a fare l'end di nome, eccetera. L'end di elenco. Però ricordiamoci che nei range e quindi anche negli slice l'ultima posizione è sempre esclusa. Quindi sto dicendo fammi una copia di tutta quella stringa, quindi tutti i caratteri tranne l'ultimo perché l'ultimo deve essere escluso. Quindi mi costa meno diciamo come istruzioni dire vabbè questo punto di virgola lo aggiungo comunque e poi lo tolgo. Tanto so che l'ultimo carattere lo dovrò cancellare. Perché sta, è uno dei centomila modi diversi. quindi però sta cosa qua come sempre è il guizzo di intelligenza del momento di sicuro domani non mi ricordo più che cosa fa e quindi elimina l'ultimo carattere. lo scrivo un commento che è il punto di virgola finale. Quindi a questo punto se io rieseguo il programma abc def vedete che la prima volta dopo abc non mi ha messo nulla la seconda volta il punto di virgola non ha messo come separatore tra il primo e il secondo e poi così via. e quindi ci stiamo già avvicinando a direi che l'output del programma è già quello che volevamo. È già corretto rispetto a ciò che ci richiedeva l'esercizio. Perché l'esercizio si diceva semplicemente ad ogni inserimento ok dovrai stampare il numero di amici ok seguiti l'elenco completo ce l'abbiamo in ordine alfabetico ce l'abbiamo con i nomi separati dal punto di virgola ce l'abbiamo anche quello siamo a posto. Adesso cosa ci manca ancora? Beh ci manca ad esempio questa funzionalità qui solo se tal nemico non esiste ancora altrimenti devo stampare un messaggio di errore signora il dato e sì perché questo programma se io inserisco tante volte sempre signora A me lo inserisci tante volte alla nausea beh questa volta è un nome diverso perché è un A in piuma quindi io devo evitare questo quindi dovrò da quando leggo il nome qui a quando faccio l'appende dovrò fare una serie di controlli quindi possiamo innanzitutto dire che verifico se il nome esiste già che il nome non esiste ancora allora questo è facile perché dico che se se il nome non è tra gli amici allora lo aggiungo e poi rimetto in ordine alfabetico altrimenti altrimenti vuol dire che c'era già nome è duplicato e quindi cosa dovrò fare stampare semplicemente un messaggio l'amico amico nome è già presente e non e non faccio nulla e non lo aggiungo non faccio l'appende non faccio il sort perché ovviamente non avendo modificato la lista non serve niente metterla in ordine Antonio ci scrive sulla chat un modo diverso di costruire la lista sì assolutamente proviamolo se inserisco abc poi df poi cercasti di inserire abc mi dice l'amico abc è già presente e non mi inserisce questa volta il doppione se faccio df mi dice che l'amico df è già presente e non mi inserisce il doppione è chiaro che se inserissi abc tutto maiuscolo per il momento me lo prende come un amico diverso e me lo scrive quindi questo problema delle maiuscole non l'abbiamo ancora risolto e lo sappiamo che non è ancora risolto però l'abbiamo diciamo così al netto del fatto che l'utente scriva in modo coerente le maiuscole e le minuscole il nostro programmino funziona e finisce qua adesso qui ci stiamo fidando di qualunque cosa l'utente inserisca come nome potrebbe anche inserire come nome 313 potrebbe inserire punto esclamativo potrebbe inserire una stringa vuota ci sembrerebbe che un nome legittimo di un amico quindi bisognerà probabilmente prima verificare che il nome sia corretto e poi già che ci siamo possiamo anche mettere a posto le lettere maiuscole e le lettere minuscole ok allora io però non voglio tanto complicare il codice qui allora mi definisco una funzioncina verifica nome a cui passo il nome e lei mi restituirà in questo caso dico restituisci mi true qui dentro farò e poi ovviamente la devo modificare questa funzione farò tutti i controlli che voglio quindi dirò se nome e la stringa vuota allora ritorna falso se else if not nome punto is alfa se non è fatto tutte le lettere alfabetiche ritorna falso eccetera eccetera no altrimenti uguale uguale ecco perché no l'errore dimenticato l'uguale si chiama is alfa no la funzione perché non la trovo e quindi questa funzione mi restituirà vero o falso a seconda che il nome rispetti una serie di criteri che che decido io quindi questa funzione semplicemente verifica che il nome fornito rispetti dei criteri di correttezza queste funzioni qua che controllano l'errore sono sempre complicate perché devi andare a pescare 12.000 casi particolari e quindi magari me la metto in una funzione così non mi dà fastidio al programma principale e quindi qua semplicemente andrò a controllare prima di verificare se il nome esiste o no andrò a verificare verifica se il nome è corretto è scritto correttamente quindi scriverò if verifica nome del nome che ho ricevuto allora posso andare avanti altrimenti altrimenti non va bene allora scriverò che il nome il nome nome non è scritto correttamente quindi questo else diciamo così verifica nome me lo scrivo come commento verifica nome fallisce fallisce se ritorna falso togliamo un po' di tiche vuote così riusciamo a vedere il codice quindi qui adesso abbiamo fatto qualche controllo semplicemente semplicemente detto allora se il nome è vuoto se il nome non è fatto di lettere alfabetiche allora ritorna falso altrimenti ritorna vero perché vuol dire che è valido proviamo un po' a vedere come funziona se io inserisci semplicemente la stringa vuota quindi batto invio mi dice che il nome non è scritto correttamente se io mettessi un numero 234 mi dice il nome non è scritto correttamente se io invece metto abc mi dirà che me lo accetta e va avanti ho preferito visto che qua ci sono degli fanni dati uno dentro l'altro dei controlli da fare ho preferito non complicare il codice qui perché qui c'è la logica del programma tutto sommato non lo voglio complicare lo metto in una funzione separata così rimane tutto questa funzione si occupa della parte rognosa di controllare gli errori e semplicemente mi restituisce un booleano vero o falso che io controllo qua e decido se andare avanti oppure no quindi le funzioni ci servono proprio per questo per riuscire a gestire a spezzettare le varie parti del programma ecco visto che abbiamo usato una funzione tanto vale usare suggerimento generale di mettere tutto il programma all'interno di un'unica grossa funzione che chiamiamo main normalmente quindi tutto il programma lo mettiamo dentro un'unica grossa funzione in dentro di un colpo tab e come unica istruzione eseguibile ci sarà ovviamente la chiamata della funzione main vera e propria questo ha il vantaggio che le funzioni come una funzione verifica non potrà mai accedere alle variabili come amici nome eccetera che sono invece dentro la funzione main e quindi abbiamo tutto il codice che è dentro una funzione o un'altra funzione e siamo sicuri che ciascuno ha le proprie variabili e non si diciamo così creano confusioni Filippo mi chiede come faccio a fare il contrario dell'indentazione shift tab tab indenta e shift tab invece rientra tab va avanti e shift tab invece torna indietro se volessi fare così shift tab e invece il tab me lo rientra ok cosa dobbiamo ancora fare beh ad esempio potremmo normalizzare il nome no cioè noi abbiamo questo problema delle maiuscole e minuscole allora questo qui tra l'altro mi è scappato lo shift e ho scritto abc con anche la b maiuscola allora se noi facessimo una funzioncina che prende un nome e me lo restituisce mettendo posto le maiuscole e le minuscole a questo punto normalizza maiuscole lo posso fare facendo in modo di restituire una nuova stringa che sia fatta semplicemente col primo carattere maiuscolo e tutti gli altri minuscoli e questo semplicemente prendo il primo carattere nome di zero upper più i restanti come faccio prendiamo uno slice dall'uno fino in fondo lower e ritorno a questo quindi aggiungo commento dato un nome fatto di lettere alfabetiche di carattere alfabetici lo converte in modo da avere iniziale maiuscola e di resto minuscolo e quindi noi possiamo usare questa funzione normalizza maiuscole dentro il nostro codice quindi dopo che ho fatto verifica nome e prima di controllare se negli amici appendolo eccetera eccetera lo normalizzo al posto di nome lo sostituisco con normalizza maiuscole di nome vediamo se funziona inserisco un nome tutto maiuscolo me l'ha convertito in prima lettera maiuscola tutte minuscole lo inserisco tutto minuscolo mi dice che è già presente perché in realtà lui prima l'ha convertito e poi ha controllato se era presente quindi prima lo mette in una forma normale una forma canonica e poi lo controlla se io facessi B ovviamente me lo mette come valore diverso se io qualunque forma lo scriva lui lo converte sempre in questo modo e quindi normalizza se avessi un nome che è fatto di una lettera sola funziona lo stesso ricordiamoci sempre i casi particolari perché questo questo slice nome di 1 fino in fondo nel caso in cui ci sia un carattere solo questa è una slice vuota quindi è una stringa vuota e non crea errori bisognerebbe fare sempre attenzione che nel caso particolare di una stringa di un carattere solo non stiamo generando errori nel caso di una stringa di 0 caratteri questo non capita mai perché l'abbiamo verificato prima che non può essere una stringa vuota e quindi non cercheremo mai di normalizzare una stringa che è fatta di 0 caratteri oppure qualche cosa che non abbia maiuscolo o minuscolo perché sono dei numeri e quindi mettiamo insieme questa è una piccola elaborazione sulle string che già sapevamo fare ma la usiamo in questo caso in un contesto per ripulire i dati che stiamo inserendo in una lista l'unica operazione sulle liste che abbiamo fatto oggi sono queste tutto il resto è gestione semplicemente dell'input andiamo ancora avanti un pezzo sulla parte di output questa abbiamo detto che funziona scrivere l'output separato del punto e virgola però visto che oggi abbiamo visto la funzione join magari riusciamo a scriverlo semplicemente usando la funzione join ok quindi questo codice qua funziona finora ha funzionato non ho mai dato problemi ma già che ci siamo cerchiamo di migliorarlo allora prima di tutto se io non sapessi migliorare mi verrebbe molta voglia di prendere questo e metterlo in una funzione d'appoggio perché questo codice è sporco prendo l'indice ci somma un pezzo metto la punta e virgola eccetera nel programma principale main questo fa un lavoro diciamo così di basso livello con catena delle stringhe mentre il flusso logico del programma mi piacerebbe vederlo bene nel main quindi cerchiamo di fare in modo che il main abbia una funzione abbia un flusso logico chiaro e se poi deve fare dei lavoretti di gestione dati di basso livello mettiamoli in una funzione così ci testiamo la funzione separatamente ma non va a inquinare a complicare la leggibilità del codice principale però noi questo possiamo evitare di farci una funzioncina apposta per fare questo e quindi lo commentiamo e così rispondo anche a Vittoria che mi chiede come faccio a commentare control slash control e il tasto slash questo qua sbarra adesso qui c'è la tastiera americana quindi quello in basso a destra sulla tastiera italiana non so bene se si usa lo slash che c'è sui numeri 7 e 8 oppure si usa sempre comunque il tasto in basso a destra devo dire che per programmare le tastiere italiane non sono il massimo della comodità e quindi dicevamo questo qua si può semplicemente ottenere l'elenco usando l'operatore il metodo join che si applica a una stringa che rappresenta il separatore join di amici per decommentare uso lo stesso tasto un'altra volta quindi queste tre istruzioni questo ciclo lo posso semplicemente sostituire con una chiamata all'operazione join verifichiamo che non abbia fatto ok sembra funzionare tutto beh funziona tutto per modo di dire nel senso che se voi avete la sfortuna di chiamarvi con un nome doppio vi dice che il nome non è scritto correttamente perché perché maledizione noi qua nella nella verifica nome avevamo messo che tutte le lettere del nome devono essere alfabetiche quindi se tu contieni se il tuo nome contiene uno spazio oppure un trattino questa funzione lo considera errato allora questo è un motivo in più per cui ho messo questo codice in questa funzione perché se uno poi vuole permettere diciamo così di riconoscere i nomi anche con lo spazio all'interno anche col trattino all'interno lo devo complicare questa funzione ma lo complico lo posso fare in tanti modi adesso Michele mi dice ma io posso rimpiazzare gli spazi con una stringa vuota e poi dopo controllo se c'è tutto alfabetico sì che posso farlo l'importante è che poi lo posso fare modificando questo nome o lavorando dentro questa funzione l'importante è che poi il nome che aggiungo nella lista sia corretto e poi facciamo attenzione perché questa questo giochino qua di mettere in maiuscolo la prima lettera non piace tanto Maria Grazia perché non vuole trovarsi con la G minuscola ok quindi queste due cose sono facili da fare nel caso banale quando non ci sono nomi doppi diventano un pochino più incasinate da fare quando ho dei nomi composti però se vogliamo in un giorno di insonnia possiamo prendere queste due funzioni e cercare di rendere più complete possibile ma questo non cambia minimamente la logica del programma principale proprio a questo serve la separazione in funzioni faccio una funzione che mi gestisce per ora il caso minimo mi concentro sul programma principale se poi quella funzione deve evolvere lo farà ma a questo punto non tocco più nulla nel programma principale rischio a ragionare proprio separatamente ogni sottoproblema sarà diverso dagli altri sottoproblema verificare che un nome sia giusto e allora mi vedo a vedere tutte le casistiche sottoproblema convertire correttamente un nome con le maiuscole e minuscole e in questo caso la G di Maria Grazia dovrà essere convertita in maiuscola pur non essendo la prima lettera ma è una lettera che viene dopo uno spazio allora ci dobbiamo inventare delle regole e le dobbiamo implementare ma questo non tocca il programma principale ok quindi sappiamo che ha dei limiti non è perfetto ma ci soddisfa già adesso se ci siamo tutti fin qua direi che abbiamo implementato tutto tranne questo pezzo che avevamo detto lo lasciamo per dopo abbiamo detto lo lasciamo per dopo e quindi adesso adesso è dopo e quindi dobbiamo farlo un gruppo di amici separati da virgole allora questo vuol dire che il mio programma quando legge nome finora faceva finta che il nome fosse un nome unico adesso però questo nome potrebbe a sua volta contenere più nomi separati da virgola allora mi devo comportare in modo diverso innanzitutto innanzitutto prima di fare verifica nome dovrò controllare se questo nome è un nome composto oppure no allora non mi viene più da chiamare questa cosa nome ok perché magari non è più un solo un nome il cambio nome questa variabile la chiamo in modo diverso così mi distingue facilmente nel codice quello che è la linea inserita dall'utente rispetto al singolo nome che magari è un pezzettino solo di quella linea ok quindi chiamiamola proprio linea che se è tra i asterischi mi fa uscire il programma e poi questa linea anche in fondo dovrò leggerla dopodiché il caso semplice è quello in cui la linea non contiene la virgola allora se la linea non contiene la virgola allora il programma che ho scritto funziona correttamente quindi if la virgola not in linea allora il nome l'unico nome dell'unica persona sarà tutta la linea e vado avanti col programma che avevo quindi fatemi fare tutto questo e lo indento di una posizione questa print la lascio fuori dall'if perché la devo fare comunque in ogni caso quindi vediamo un attimo se se è chiaro ve lo sto facendo guardiamo un po' il codice leggo una linea che può contenere o un solo nome oppure una serie di nomi separati da virgola e allora visto che può comportarsi in due modi questa linea mi chiedo in quale caso sono se la linea inserita dall'utente non contiene la virgola quindi l'utente ha inserito un nome solo e quindi mi ricado esattamente nel caso precedente ho inserito un nome solo quindi il nome che devo inserire sarà esattamente il contenuto della linea che ha inserito l'utente e quindi questo nome qua dovrò verificarlo dovrò normalizzarlo dovrò aggiungere la lista e rimetterla in ordine esattamente come prima altrimenti no scusate questa parte di elenco va anche fuori dal ciclo perché la costruzione dell'elenco e la stampa dell'elenco sono fuori da questo if sono dentro il while ma fuori dall'if else else e allora l'utente ha inserito un elenco di nomi un gruppo di nomi separati da virgola allora in questo caso cosa dovrò fare dovrò innanzitutto esempio l'utente ha inserito una stringa che è del tipo qui virgola qua virgola qua o peggio ancora ma qualcosa di più schifoso che potrebbe essere A tutto in maiuscolo A tutto in minuscolo B e così via in cui magari ho maiuscole e minuscole messe male e magari oltre la virgola c'è anche uno spazio da qualche parte quindi dobbiamo vedere come gestirle facciamo prima il caso semplice e poi eventualmente lo complichiamo ok lo rendiamo più complesso allora in questo caso cosa dobbiamo fare noi sappiamo già risolvere il caso semplice dobbiamo riuscire a risolvere un caso un pochino più complicato ma questo si tratta semplicemente di analizzare analizzare questa stringa e separare i singoli nomi presenti dentro quella stringa quindi singoli nomi diciamo così ciò che devo fare come prima operazione è dividi la linea in corrispondenza delle virgole e mettili metti le parole i singoli nomi in una lista di string questo si può fare ad esempio usando l'operazione di split che abbiamo visto prima quindi i nomi nomi plurale non nome singolare perché è una lista posso prendere la linea inserita all'utente punto split vediamo cosa fa questa istruzione nella console dunque eravamo qua quindi immaginiamo che la linea sia questa quindi linea uguale qui qua io faccio nomi uguale linea punto punto split sul carattere di virgola forse avevo dimenticato la virgola sopra vero sì cosa mi dice mi costruisce una lista nomi che contiene queste tre parole ok quindi questa ho una lista di string supponiamo che non ci siano spazi extra non ci siano maiuscole strane eccetera eccetera allora a questo punto a noi basterà fare un ciclo tipo for nome in nomi nomi scusate in cui inserisce diciamo così elabora inserisce il singolo nome quindi la prima volta prenderà qui e lo inserisce ma cosa vuol dire faccio esattamente lo stesso codice che avevo qui esattamente queste linee le vado a replicare identiche sotto sul primo nome della lista poi sul secondo nome della lista poi sul terzo nome della lista e così via quando ho finito di elaborare la lista la riordino e la stampo quindi dalla lista dei nomi travaso nella lista di amici solamente i nomi che ovviamente hanno senso sono validi per rispondere a un po' di domande Filippo mi dice se io metto i tre esterischi nell'elenco dei nomi non viene preso come fine dell'inserimento ed è giusto così nel senso che il testo diceva il programma termina quando l'utente inserisce tre esterischi non quando l'utente inserisce le esterischi come parte di una stringa i tre esterischi da soli questo programma si comporta in questo modo Angelo invece parlava no qui siamo scusate siamo passati dal discorso di Maria Grazia con lo spazio che abbiamo detto non lo risolviamo oggi per risolverlo dovremmo andare a modificare la funzione verifica nome la funzione normalizza maiuscole ma non lo facciamo siamo passati invece a vedere l'elenco di amici separati da virgola ok che è un po' più complicato dal punto di vista algoritmico quindi poi se volete gestire le varie Maria Grazia quando il programma sarà completo basterà andare ad agire all'interno di queste due funzioni rendendole più furbi più intelligenti facendo in modo che gestiscano anche questi casi la domanda di Matteo mi dice beh però quando hai un solo amico scrivi comunque hai uno amici anziché hai un amico sì è vero di nuovo questo è un altro dettaglio nel senso che qui a questo amici o amico potrei distinguere due casi particolari per scrivere il messaggio più corretto in italiano questi sono io li chiamo dettagli estetici ok vi passo un messaggio tante volte si vedono dei programmi che fanno perfettamente tutti i dettagli dell'output lo spazio il maiuscolo il minuscolo il plurale il singolare fanno tutti i controlli possibili sull'input il nome maiuscolo minuscolo il punto esclamativo la virgola eccetera e poi nella parte algoritmica centrale sono completamente cannati sono completamente sbagliati allora non dedicate attenzione alle parti io le chiamo estetiche di dettaglio fino a quando il cuore dell'algoritmo non è posto e non funziona la parte estetica si può sempre aggiustare dopo e se avete un tempo limitato che ne so faccio un'ipotesi in un esame se poi non fate la parte estetica negli ultimi cinque minuti ma chi se frega cioè si potrebbe essere magari una 37 come voto neanche 32 ma chi se frega se invece fate tutto bene l'input tutto bene l'output la validazione dei dati eccetera poi l'algoritmo centrale che vi viene chiesto non lo fate o lo fate negli ultimi cinque minuti e di sicuro vuol dire che lo fate sbagliato perché per corso le cose in fretta negli ultimi cinque minuti si fanno sbagliate allora avete già rovinato l'esame l'avete perso completamente ok quindi è giusto avere amore per i dettagli ma i dettagli vengono dopo la sostanza questo veramente partite dall'algoritmo io so che ti viene da fare i dettagli perché li vedi e perché sono più facili sono più facili e poi allora li aggiungi ancora fai il ricamo fai il fiorellino fai la cosina bella intorno tutto perché tutto per evitare di buttarti sulla parte dell'algoritmo che è quella che magari capisci meno dove hai più difficoltà ecco dovete fare questo sforzo veramente di concentrarvi prima sulla parte algoritmica e poi sulla parte estetica di rifinimento ok mi segno un errore dove mi segno un errore perché in questo for non c'è un corpo c'è solo un commento non ci sono istruzioni adesso devo scrivere ovviamente le istruzioni sì effettivamente anche dopo i tre strischi mi dice arrivederci grazie quello che volete ma quelli sono tutti veramente dettagli che non interessano nessuno immaginate una persona a caso quando deve correggere 200 compiti di fila si va a vedere se avete fatto tutti questi dettagli no ok torniamo qua che invece non è un dettaglio ma è il cuore elaboro in 16 singolo nome dicevamo rifaccio esattamente questo quindi prendo questo codice qui e faccio un'operazione che non mi vedrete mai più fare ma per la prima volta la faccio copia qua e incollo qua sotto attenzione che dopo che l'ho incollato devo indentarlo di una posizione perché a questo punto sono dentro il for ok quindi cosa succede abbiamo detto abbiamo letto il qui qua così come unica riga l'abbiamo spezzato l'abbiamo convertito in una lista prendiamo riga 72 il for uno per volta i nomi di questa lista e lo chiamiamo nome l'ho chiamato nome la variabile di controllo di questo ciclo esattamente come avevo chiamato nome la variabile sopra nel caso in cui la linea avesse un nome solo e questo nome viene per ogni elemento qui qua qua viene fatto questo codice come se l'utente avesse inserito prima volta qui poi qua poi qua esegue lo stesso codice quindi alla fine il programma si comporterà esattamente nello stesso modo indipendentemente dal fatto che io abbia inserito i nomi uno per riga oppure dal fatto che li abbia inseriti tutti in una riga sola questo almeno in teoria abbiamo sempre aggiunto dentro amici la versione normalizzata e verificata e poi dopo che l'abbiamo aggiunto magari questo sort possiamo anche farlo vabbè fa lo stesso possiamo anche portarlo fuori dal for e poi però ci ragiono tra un secondo prima vediamo se funziona e poi cosa succede qui siamo sotto questo grosso if ce ne sono molti o ce n'è uno ce n'è uno lo inserisco e questo lo sapevamo fare prima ce ne sono molti li divido e li prendo uno per volta e poi uno per volta li inserisco cioè faccio esattamente la stessa cosa di prima vediamo se funziona perché a parole funziona sempre tutto ma poi nella realtà bisogna vedere allora se inserisco qui aiuto amici sono qui ok se inserisco quo virgola qua inserisce qua qui quo quindi mi ha aggiunto quo in fondo mi ha aggiunto qua mettendo posto le maiuscole all'inizio io posso aggiungere pippo così almeno scrivo pippo una volta siete contenti pluto paperino ma non lo scrivo come nome di variabile paperoga e quindi in questo caso uno due tre quattro me li prende giusti e li inserisce proviamo a mettere un nome multiplo però tre nomi di cui uno esiste già ok prendiamo paperone cui e gamba di legno quindi mi dovrebbe inserire paperone inserire gamba di legno e qui dovrebbe dirmi che non esiste che esiste già e quindi non inserisce l'amico qui è già presente ai nove amici gamba di legno me l'ha messo e paperone me l'ha messo quindi sembra che faccia ciò che ci serve esattamente se l'utente inserisce delle cose strane tipo a virgola virgola b lui mi inserisce l'amico a l'amico b e mi dice che il nome vuoto non è scritto correttamente cos'è questo nome vuoto sarebbe la stringa vuota che c'è in mezzo alle due virgole un po' meno bene se io scrivo qui qua con lo spazio tra di loro perché abbiamo visto già prima facendo l'esempio che qua quando faccio l'operazione di split mi prende tutti i caratteri che vanno da una virgola alla virgola successiva mica la split cioè deve decidere che lo spazio non è da prendere gli dico separano sulla virgola lì c'è una virgola e lo separa lì e quindi mi dà una stringa di quattro caratteri che si chiama spazio Q grande U o piccolo e nel nostro controllo isalfa chiaramente ci dice che non va bene e quindi non me lo inserisce poi vabbè non me lo inserrebbe comunque perché è già presente però si blocca prima allora questo non mi piace tanto sarebbe bello almeno riuscire a eliminarli questi questi spazi allora per poterli eliminare un modo c'è nel senso che io so che la split me lo lascia quello spazio e non ci posso far nulla funziona così ma dopo che mi hai dato l'array di nomi io posso andare uno a uno uno per uno a correggere ad esempio quindi prima di inserirli posso dire senti andiamo a vedere i vari elementi for nome in range in scusate no i in range zero length di nomi e andiamo a prendere vi ricordate la funzione trim l'avevamo vista se io prendo nome di punto trim si chiama così c'era l trim r trim strip r no r split nomi nomi scusate non mi ricordo non sono sicuro spazio trim esiste no strip aspetta ok mi confondo con javascript strip si chiama la funzione strip prende una stringa ed elimina tutti gli spazi che stanno davanti e dietro a questa stringa ok quindi a me basta ripulire per tutte le stringhe nomi di uguale nomi di punto strip e quindi elimina eventuali spazi solo gli spazi e i tab lo spazio bianco che c'è all'inizio e alla fine delle stringhe separate quindi se ci fosse Maria Grazia lo spazio in mezzo non viene eliminato ma lo spazio di prima e lo spazio di dopo sì quindi questo è un buon modo comodo per ripulire un array che è appena stato splittato Filippo mi dice possiamo anche usare replace sì la differenza è che strip toglie solamente gli spazi all'inizio e alla fine mentre replace toglierebbe anche gli eventuali spazi interni e nel caso di nomi composti magari gli voglio preservare gli spazi interni poi come sempre qua su queste cose il dettaglio non è mai fatta la cosa giusta perché uno può scrivere Maria Grazia con due spazi in realtà non ce ne vorrebbe uno solo quindi ci complicano all'infinito queste cose però abbiamo facciamo un primo passo semplice quindi in questo caso se io scrivo qui virgola spazio quo virgola spazio qua correttamente me lo prende se io scrivo quo a questo punto mi dice che esiste già se io scrivessi di nuovo pippo qui Pluto e se lo faccio anche con scusate il topolino virgola spazio magari metto anche due spazi e provo a mettere qua mi dice che è già presente perché giustamente questi due spazi che in realtà rendevano una stringa diversa li ho tolti con l'istruzione strip ok e qui abbiamo concluso direi abbiamo concluso perché abbiamo implementato un singolo amico un gruppo di amici separati da virgola compresi anche gli spazi diciamo tolleranti rispetto agli spazi se viene inserito l'utente dovrebbe essere solo se tra l'amico non esiste ancora altrimenti stampo un messaggio di errore e si ignora il dato e così via ci sono ancora due cose che volevo al netto di eventuali domande io scusate ma fatico mentre spiego a seguire anche il codice che voi postate quindi se sono domande secche riesco a leggere altrimenti mi fa piacere che vi rispondiate tra di voi poi come sempre alla fine della lezione vado da un'occhiata ed eventualmente aggiungo qualcosa ok Mattia mi chiede se non inserisco lo spazio lo prendi per buono sì perché la funzione strip strippa lo spazio solo se c'è se non c'è nessuno spazio davanti o dietro mi lascia la stringa così com'era quindi non fa danno non pretende che lo spazio ci sia adesso ci sono ancora due cose che volevo ragionare insieme a voi una mi ha anticipato Roberto e mi dice ma al posto di copia e incolla non potevamo fare una funzione sì assolutamente infatti qua voglio arrivare l'unico problema è che adesso non sappiamo ancora dobbiamo un attimo approfondire come si comporta le funzioni con le liste e qui salterà di nuovo fuori il problema degli alias ok la seconda cosa però prima di trasformare quel copia e incolla in una in una in una chiamata di funzione volevo ragionare su questa operazione di sort perché nella parte del codice precedente qua la riga 60 aveva senso nel senso che aggiungo un nome metto in ordine l'elenco dei nomi perché tanto subito dopo lo dovrò stampare qui ho fatto copia ancora del codice tale e quale e e quindi la resort mi è saltato fuori subito dopo l'append allora cosa succede succede che se inserisco una stringa di 10 nomi questo codice inserisci il primo riordina la lista inserisci il secondo riordina la lista inserisci il terzo riordina la lista inserisci il quarto in coda riordina la lista inserisci il quinto in coda riordina la lista 10 volte ma a cosa serve a niente perché tanto io la lista la stamperò solamente una volta alla fine in fondo quindi questo sort ci fa solo perdere tempo tanto vale farlo una sola volta alla fine di questo for ok quindi mi verrebbe da dire questa roba qua non la metto qui dentro un if che dentro un if che dentro un for ma lo porto fuori di tre livelli e lo metterò tolgo da qua lo metterò qua sotto allineato sotto il for for devo spostare un po' allineato sotto il for e viene fatto una sola volta dopo che ha finito di elaborare l'intero elenco di nomi ok adesso in questo momento sto cominciando ad odiarmi perché così è giusto è meglio è più efficiente ok il programma perché evita di fare operazioni inutili ordina una cosa per subito dopo aggiungere un pezzo e quindi rovinare l'ordine per poi di nuovo riordinarlo però avevo due blocchi di codici identici perché avevo fatto copia e colla adesso ho cominciato a modificarli un po' ok ho modificato uno dei due immaginate che qualcun altro vi arriva e dica ma no ma guarda che adesso facciamo un controllo in più no oltre che normalizzare maiuscole dobbiamo anche controllare se ci sono delle lettere accentate no perché magari che ne so Josue lo scrivo una volta correttamente così e l'altra volta lo scriverò così e l'altra volta ancora lo scriverò con l'accento sbagliato acuto no perché magari qualcuno sbaglia tutti voi che avete il nome e il cognome con la lettera accentata quando vi siete scritti al Politecnico vi hanno detto no caro tu la lettera accentata non me la metti ci mette un bel apostrofo come se fossimo nel 1940 e le lettere accentate non esistessero nell'informatica no prima che inventassero Unicode e allora magari vogliamo supportare quello quindi bisognerà un po' modificare il modo con cui viene normalizzato il nome per tener conto anche magari della normalizzazione degli accenti non delle maiuscole allora abbiamo che cosa abbiamo due blocchi di codice uno che è qua da qui fino a qua e l'altro che è sotto da qui fino a qui ma poi anche un pezzo qui del sort però questo pezzo qui in realtà è fuori da questo for quindi sono due pezzettini diversi sono due pezzi di codice che si somigliano che devono essere corretti entrambi però in modo leggermente diverso perché ad esempio il sort da una parte è fuori dall'altra è dentro il ciclo quindi in questo modo Samuele mi diceva ma non ti piace fare copy and paste perché appesantisce il codice no non mi piace perché ho parti duplicate di programma che fanno inizialmente la stessa cosa e poi inevitabilmente in qualche modo dovranno modificarsi dovranno evolversi e se devo correggere una devo ricordarmi di correggere anche l'altra e se magari l'ho modificata un pochino e l'altra non l'ho modificata magari c'è un motivo per cui devono essere diverse magari il motivo non c'è mi sono semplicemente dimenticato state tranquilli che dopo tre modifiche avete già perso il controllo avete pezzi diversi di programmi ho in mente i vari programmi del NIM che avete fatto che sono stati un tripudio di copia e incolla ma va bene non avevo ancora fatto le funzioni dove effettivamente c'è una parte di codice che erano il gioco trova le differenze ce l'avete presente parte di codice in cui forse è uguale ma forse no ma forse cambia il nome delle variabili ma forse questo chiaramente rende complicato sicuramente sia scrivere che capire che puoi far evolvere il programma ok allora a questo punto la cosa più giusta da fare è definire delle funzioni che facciano una parte di codice ripetuta noi abbiamo definito queste funzioni perché facevano delle cose sporche brutte antipatiche ok cose di basso livello lo metto in una funzione così il main mi rimane pulito ma poi mi sono accorto che nel main ho una parte di di esecuzione che viene ripetuta più volte allora posso definire una funzione e così scrivo quel codice una volta sola lo richiamo tutte le volte che ne ho bisogno e quel codice a questo punto è separato se dentro quel codice ci sono degli errori o va migliorato viene migliorato una sola volta dentro la funzione cosa deve fare questo codice questo codice alla fine deve prendere un nome e deve aggiornare l'elenco degli amici dopo ovviamente le opportune verifiche e basta però questa funzione quindi dovrà in qualche modo avere accesso a qual è il nome che deve inserire ma anche alla lista degli amici nella quale deve inserirlo quindi io dovrò definire una funzione chiamiamolo inserisci nome che deve inserire un nome dentro una lista di amici scrivo pass così non mi dà errore di sintassi e poi ovviamente lo cancello pass è l'istruzione che non fa nulla allora è la prima volta non che facciamo una funzione ma che facciamo una funzione che riceve va bene una stringa ma una lista allora chiediamoci solo come funzionano le funzioni che ricevono liste come parametri quindi fatemi andare a vedere due slide al volo vai qui anche questa è la 55 55 no non è la 55 ma è la 69 ok quindi come funziona come interagiscono tra di loro le liste e le funzioni ma nel modo normale non c'è nessuna grossa sorpresa io posso passare benissimo una lista a una funzione semplicemente passandola in nome definendola come parametro variabile e passandola come argomento e dall'interno della funzione posso avere accesso alla variabile quello che succede in realtà è che io dalla funzione posso avere accesso posso modificare anche la lista originale quando viene passata una lista a una funzione questa funzione può avere accesso agli elementi della lista originale ma perché perché viene passato di fatto come alias quindi tutto il rispetto che abbiamo fatto prima con l'alias ci serve adesso ci serve adesso posso qui far vedere l'esempio in cui io ho un array che viene definito come argomento la funzione values e quando io chiamo la funzione la chiama questa funzione passando come argomento la lista scores ciò che succede è che la scores è stata definita nel programma main quando chiamo la funzione in questo caso multiply si crea il parametro values della funzione che viene inizializzato copiando il valore dell'argomento questa frase l'abbiamo già detta il parametro viene creato come nuova variabile locale una variabile tipo parametro inizializzata col valore dell'argomento l'abbiamo già detto la volta scorsa qui funziona esattamente allo stesso modo come se io scrivessi values che è il parametro uguale scores che è l'argomento ma se io scrivo values uguale scorso l'abbiamo visto all'inizio di questa mattina sto creando un alias ecco semplicemente questo uguale non lo scrivo io ma è implicito nel meccanismo di chiamata della funzione quindi vuol dire che fin tanto che dentro il codice della funzione io non rompo questo alias e devo fare attenzione a non romperlo dall'interno della funzione posso vedere ma anche modificare la lista che mi è stata passata dal chiamante ok nulla di più se l'esempio è fatta con questa funzioncina scusatemi ma la diciamo così il punto a cui fare attenzione essenzialmente abbiamo provato a riassumerlo qua anche questa è una slide forse che non c'è ma ve la ve la metto a disposizione il programma ve lo metto io online dopo non preoccupatevi ma la fila della lezione ve lo pubblico sul sito come sempre ovviamente quindi le operazioni ad esempio modifico un elemento faccio un append un insert una pop un extend una sort che modificano il valore le posso fare dentro la funzione e vanno a modificare la funzione del main ok mentre invece le operazioni che modificano la variabile quindi riassegno una lista vuota metto una concatenazione chiamo la funzione sort eccetera e lo vedete perché c'è il nome del parametro uguale a qualche cos'altro creano una nuova lista e quindi rompono l'alias di partenza da questo momento in avanti questo values non avrà più nessun attinenza con l'argomento che è stato passato quindi devo fare attenzione dentro una funzione se sto modificando una lista che non è la mia ma è la lista che mi è stata passata dal main che mi ha chiamato devo fare attenzione a non rompere l'alias e quindi usare solamente operazioni che mantengano l'alias che è stato passato questo è il punto clou in cui ci serve tutto il giochino che abbiamo fatto nella parte iniziale che poteva sembrare una cosa teorica e quindi vuol dire che io dovrò prendere questo codice qui questo codice qui e lo metto qua dentro la funzione tolgo tre o quattro livelli di indentazione questo si chiama lista e non amici l'ho fatto apposta a cambiare nome così ci confondiamo di meno poi c'è aspetta che ho sbagliato questo anche così ok quindi questa funzione inserisci nome fa esattamente le righe che abbiamo detto prima chiama la verifica nome nel caso in cui fallisca mi dice che il nome non è scritto correttamente se il nome non è nella lista l'aggiunge e poi se invece era già nella lista mi scrive che l'amico era già presente questo sort a questo punto abbiamo capito che non ha molto senso metterlo qua no perché ogni volta che chiamo inserisci nome perché me lo deve rimettere in ordine possiamo volendo lasciarlo qua oppure spostarlo subito prima delle print sottostanti è più efficiente nel senso che faccio meno calcoli se lo stampo prima delle print è più robusto se lo lascio qui nel senso che farò del lavoro in più ma sono sicuro che quella lista sarà sempre ordinata e non devo riordinarla quando devo stamparla ma sono scelte quasi di preferenza io però lo lascio qua solamente per modificare il meno possibile il codice quindi inserisci nome è la funzione che userò al posto di tutta questa parte qua quindi inserisci nome di nome quindi se non c'è una virgola vuol dire che c'è un nome solo e allora chiamo inserisci nome scusate ha due parametri inserisci nome il primo è il nome il secondo è la lista amici in cui deve lavorare questa lista amici verrà passata come argomento alla funzione dove questa si chiamerà lista e lista è un alias di amici quindi tutto ciò che facciamo a lista verrà fatto ad amici finché non rompiamo l'alias quindi attenzione che qua noi lista stiamo facendo append e va bene stiamo facendo sort e va bene e quindi non stiamo rompendo l'alias e quindi stiamo modificando in realtà non una lista locale ma direttamente la lista amici del main per questo funziona ok e a questo punto questo inserisci nome è una figata perché lo posso mettere qua direttamente sotto il for e quindi il codice guardate come si è ridotto leggo un nome se non è gli asterischi ho due casi ho un nome solo se non c'è la virgola allora prendo questo nome e lo inserisco altrimenti spezzo la linea nei nomi componenti e per ciascun nome di questo elenco lo inserisco questo alla fine a questo si è ridotto il nostro main poi c'è il join e la stampa ci sono un po' di commenti che sono le versioni precedenti ma vediamo se funziona ancora a b a virgola b virgola c aggiungo di nuovo d e poi a con 4a e poi a con 3a solo e mi dice che quello con 4a è già presente gli altri invece sono sono stati inseriti quindi funziona esattamente come prima abbiamo fatto un'operazione che in gergo si chiama refattorizzazione cioè prendo le stesse istruzioni le sposto le organizzo in modo diverso le faccio le sposto da una funzione all'interno dell'altra con una chiamata la funzione lavora sulla stessa lista amici la funzione non crea una lista nuova questa lista non è una lista nuova vedete che non c'è mai scritto lista uguale qualcosa questa lista è semplicemente un alias inizializzato dall'argomento amici quindi nella realtà questa funzione sta lavorando su questa lista che ho creato qua alla riga 60 ed è sempre la stessa ok dobbiamo solo fare attenzione a questo nel bene e nel male nel senso che non dobbiamo se sono dentro una funzione modificare per errore qualcosa che non è mio cioè la funzione in questo caso normalizza maiuscola riceve una stringa non potrebbe modificare neanche se volesse perché le stringhe sono immutabili però se riceviamo una lista e la funzione deve magari analizzare contare cercare qualcosa è ovvio che non deve modificare ma devo fare attenzione io a non modificare quindi se faccio un punto sort solamente per stampare ricordate il discorso che facevamo alla fine dell'ora precedente se faccio sort perché voglio stampare in ordine in realtà ho modificato anche la lista di partenza e magari il programma principale non è tanto contento che io la modifichi quindi quando non devo modificarla devo fare attenzione a non fare operazioni che vado a modificare tramite l'alias nel dubbio mi faccio una copia e mi modifico quella farei lista uguale list di lista cioè quindi faccio una copia locale e poi lavoro sulla mia copia quindi se non devo modificare nulla devo fare attenzione a non rovinare i dati del chiamante attraverso l'alias se invece devo modificare i dati del chiamante come in questo caso perché devo aggiungere degli elementi a quella lista allora devo fare attenzione a non rompere l'alias e usare solamente operazioni che agiscono sul valore e non sulla variabile questa forse è la difficoltà principale del mescolare funzioni con liste essenzialmente questo è il punto in cui ci tenevo ad arrivare in modo che ci possiate anche riflettere e provate a fare diciamo così anche i vostri esercizi con questo in mente non c'è nulla di spaventoso di difficile nel gestire funzioni e liste insieme anzi come abbiamo visto si semplifica si da molta aria si semplifica molto il codice purché ovviamente si seguono bene le regole si faccia attenzione a qual è la lista che stiamo modificando ok ho sforato un paio di minuti una brutta abitudine che non vorrei prendere quindi vi chiedo scusa per questi tre minuti se ci sono domande urgenti al volo vi rispondo ancora altrimenti rispondo nella chat mentre chiudiamo la chiamata ricordatevi gli orari aggiornati del laboratorio di giovedì e come sempre ci vediamo la settimana prossima grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti